Direttamente dalla Cameretta Magica, benvenuti ad un nuovissimo video Oggi, 12 di agosto, ambozzeremo la terza e la quarta uscita della Topolino Sport Collection cioè Paperino e Zio Paperone che li ho comprati all'eticola di Valmontone prezzati 5,50€ l'uno Qua ci sta il retro, come al solito, qua il fumetto di Paperino e questo è quello di Zio Paperone Ah e comunque volevo salutare un paio di miei fans Allora, volevo salutare Davide Cir, Olli Visco, Andrea Celi, Matteo Bregantin, Bessi il Bestione, Pietro Lombardo e Giorgio Sallei che quest'ultimo, Giorgio Sallei, è uscito da una brutta situazione perché purtroppo aveva contratto la leucemia e fortunatamente è guarito Comunque, adesso prendiamo, come al solito, la Zaccagna e passiamo all'unboxing Umbuzziamo prima Paperino Allora fumetto di Paperino poi il solito abbonamento che a me non mi frega assolutamente nulla Allora, qui abbiamo Studio del personaggio di Alessio Coppola Ok Questo è il pupazzetto Questa mi sembra che è la terza uscita quindi allora mettiamo, come al solito la base ecco qua Poi, adesso vediamo un po' il fumetto Qua ci sono le carte da gioco poi sfida ai tuoi amici con Topolino il regalo e il disco volante Poi Allora Poi Ok Poi Adesso ambozzeremo Tio Paperone Dunque Fumetto Qua pubblicità del mazzo di carte Oh Questo mi potrebbe interessare Gioca tutta l'estate con il regalo con l'abbonamento il drone radiocomandato il Topo Drone Abbonati col 40% di sconto Il Topo Drone forse potrebbe interessarmi Allora Vediamo la pellicola Qui Studio del personaggio di Alessio Coppola Zio Paperone E ora apriamo Sempre Zio Paperone Qui Paperino è con la piscina Mentre Zio Paperone è Diciamo Il Golf Sì Come puoi vedere è Golf E ora Ora Prendiamo Che Zio Paperone Molto ben fatto E voilà Bene Che dire Poi prossimamente Farò un video Della collezione completa E niente Ci vediamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima